4.189 persone controllate e 302 sottoposte al precursore, 21 automobilisti sanzionati per guida in stato di abbrezza per un totale di 19.097 euro di sanzioni amministrative, 25 patenti ritirati e 372 punti decurtati, 18 soggetti segnalati all'autorità giudiziaria perché hanno superato il limite di legge. Sono alcuni numeri dell'operazione per prevenire gli incidenti stradali condotta dai carabinieri delle 79 stazioni e dei 9 nuclei radiomobili del comando provinciale di Nuoro. I militari sono stati impegnati in un vasto piano coordinato di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di tutti quei comportamenti che possono creare pericoli per la sicurezza stradale, con particolare attenzione alla prevenzione degli incidenti causati da chi, specie nelle ore notturne, si mette alla guida in stato di abbrezza. Nel corso dei controlli stradali un soggetto è stato sanzionato, oltre che per guida in stato di abbrezza, per porto ingiustificato di arma da taglio. Nell'operazione i carabinieri hanno utilizzato 1.943 uomini e donne e 983 mezzi. Sono stati effettuati 18 posti di blocco di almeno due ore ciascuno nelle principali strade provinciali, composte da almeno 7-8 carabinieri che hanno consentito un filtraggio totale di tutte le auto in transito. L'efficacia del sistema, sottolineano in una nota i carabinieri, è stata efficace sia sul fronte della prevenzione che su quello della repressione. Su quest'ultimo fronte è stata rilevata in maniera omogenea in ogni località della provincia la circostanza che nell'arco di mezz'ora dall'inizio dei posti di blocco sono iniziate a transitare auto guidate solo da donne, col proprietario del mezzo trasportato come passeggero. Il segno è evidente che con l'utilizzo dei social network e dei sistemi di messaggistica istantanea dagli utenti della strada si spargiava la voce a macchia d'olio dai controlli nato. Una pratica ed è precabile, sottolineano i carabinieri, ma che ai fini della prevenzione in questo caso si è dimostrata un valido supporto. I controlli hanno confermato il trend al ribasso, anche se è troppo alto ancora il numero di automobilisti che si mettono alla guida delle proprie auto dopo aver ingerito alcol.